Buonasera Lino, buonasera a te e a tutti i telespettatori, un pareggio diciamo corroborante perché prosegue la striscia positiva dell'Alma dopo il blitz dei Marsi di Avezzano un pari che però comunque fa storcere un pochino il naso all'ambiente Granata perché il Campobasso ha comunque trovato il gol al 43esimo del secondo tempo un pareggio comunque meritato e tra l'altro come poi vedremo fra poco al Campobasso diciamo che poteva andare anche meglio perché due gol sono stati tolti alla compagine di mister Massimiliano Favo a margine di questa partita che sostanzialmente ha visto un pari giusto e la squadra Granata lottare dobbiamo registrare l'ennesimo episodio increscioso che ha coinvolto il portiere dell'Alma Ginestra un po' beccato dalla curva dopo un paio di incertezze nella partita il portierone Granata così come aveva fatto un paio di settimane con il sottoscritto ha deciso di replicare anche in malo modo a qualche tifoso sono episodi che non vorremmo più vedere e magari sarebbe opportuno che la società prendesse dei provvedimenti ora vediamo comunque queste tre episodi nel secondo tempo c'è questo cross di Aquino vediamo il gol di Valentini sotto misura ma Aquino secondo il direttore di gara aveva crossato quando la palla era già uscita in realtà la palla è in campo anche se le immagini non sono chiarissime vedete il cross dalla sinistra c'è Aquino che al momento del cross sembra avere comunque i piedi dentro il campo e la palla anche se non sono chiare le immagini perché sono un po' sfocate sembra comunque essere sulla linea il gol dovrebbe essere valido poi Valentini sotto misura batte Ginestra vedete al momento del cross i piedi di Aquino del centroavante Molisano sono nel rettangolo di gioco e la palla sembra essere sulla linea passiamo ora al secondo episodio al ventesimo del secondo tempo il rigore per il Fano qui sembra esserci pochi dubbi il cross dalla bandierina c'è il numero 5 Ferrai lo vedete che tira giù letteralmente Gucci lo cinturello strattona quindi il direttore di gara Donda di Cormons il bravo Donda di Cormons ben piazzato praticamente concede il rigore per il fallo quindi netto di Ferrai su Gucci come lo potete vedere Gucci che è in vantaggio su Ferrai che lo affossa rigore netto per il fallo che poi Civilla trasformerà ultimo episodio nel recupero il tiro di Lucchese poi la palla che arriva al fiore la parata di Ginestra e Valentini in posizione regolare perché comunque è tenuto in gioco da May con un tap in beffa Ginestra qui Ginestra non del tutto inappuntabile nel tiro del giocatore molisano Valentini che è partito da dietro segna il gol del 2-1 il gol vedete il gol del numero 8 Valentini che quindi per la seconda volta si vede defraudato del gol che è parso regolare eravamo nei minuti di recupero sarebbe stato il gol diciamo della vittoria del campo basso che quindi può recriminare per due reti non concesse una volta tanto ecco il direttore di gara viene in soccorso del faro forse è la prima volta in questa stagione ed ora i risultati e la classifica del tredicesimo turno del campionato di serie di Gione F Alma Juventus Fano Campobasso 1-1 Amiternina Chieti 2-2 Folgore Vega Avezzano 2-0 Figlianova Castelfidardo 2-1 Isernia Fermana 1-0 Aiesi Samb batte Iesina 2-0 Amatelica Monticelli batte Amatelica 2-0 Ricanatese batte San Nicolò 2-1 A Pesaro Agnonese batte Vispesaro 2-0 per una classifica che vede la Samb in testa sempre più solitaria a 31 punti più 9 sulla coppia San Nicolò e Alma Juventus Fano a 22 il Matelica e la Folgore Vega a 21 Monticelli e Isernia a 19 Chieti e Iesina a 18 Castelfidardo Campobasso Avezzano 16 Fermana Recanatese 15 Agnonese 13 Chiude il terzetto di coda Amiternina Vispesaro e Giulianova a 11 punti Il prossimo turno il Fano sarà di scena al Mancini di Castelfidardo contro la compagine di mister Ruben Dario Bolzan Ed ora le pagelle della gara Alma Juventus Fano Campobasso Ginestra 5,5 Salvato 6,5 Bartolini 5,5 Lunardini 6 Veruschi 6,5 Favo 6,5 Sivilla 6 Sassaroli 6,5 Gucci 6 Chiacchiarelli 6,5 Marconi 6,5 Camilloni 6 Mei 6 Buongiorno Senza valutazione Mister Alessandrini 6 Più che sufficiente Anche la direzione di gara Del signor Donda Di Cormons Che non ci ha convinto Più che altro Soprattutto Nei suoi collaboratori Che hanno Errato poi le due Decisioni Per i Molisani Che appunto Sono stati defraudati Di un paio di Centri Che erano Regolarissimi dif lógico di Di un paio di Di un paio di Bellini 6 Di un paio di